bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti oramai manca solamente un giorno abbondante e finalmente vedremo assieme tutto quello che capiterà nell'evento che ci porterà alla season 5 lo sappiamo ragazzi non proprio direttamente alla season 5 perché dovrebbe esserci un periodo di downtime prolungato dei server si parla di 10 ore barra un giorno oggi parliamo però di un sacco di novità vi faccio sentire un altro audio vi faccio vedere delle teorie super interessanti e un sacco di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere un'informazione fondamentale per tutti quelli che vogliono subito con uno schiocco di dita un sacco di punti esperienza free xp come leggete là in alto nella nuova modalità ltm the pit quella che è presente in questo momento nella scelta delle modalità di gioco sappiamo che esponiamo immediatamente con 30 mila di maz suddiviso ovviamente in 10 mila 10 mila e 10 mila questo ci permette di completare praticamente in un attimo in un paio di partite una delle schede punti più impegnative che è quella di raccogliere i materiali si deve arrivare fino a un milione quindi in questo modo come dite come state leggendo ragazzi oltre a fare la sfida dei materiali uscite rientrate dalla partita uscite rientrate e vi vengono contati potete anche fare una delle sfide che non ricordo se non ricordo male era della settimana 3 della xp stravaganza che invece è quella di colpire gli avversari con le granate ad impulso se non sbaglio dovreste esponare anche con quelle quindi una roba davvero da fare se vi servono punti esperienza entrate uscite entrate uscite e colpite tutti gli avversari con le granate ad impulso in questo modo riuscirete ad ottenere un bel po di punti in uno schiocco di dita e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché due aggiornamenti rapidi su quanto sta succedendo in questo momento sia in prelobby sia in game prelobby ragazzi la state vedendo in questo momento oramai è quasi arrivato lo stadio finale già ve lo facevo vedere più di una settimana fa l'immagine mostra proprio il galactus che è emerso completamente anche se in game in realtà non è ancora uscita neanche la parte del torace come vedete siamo a questo punto la testa è praticamente quasi completamente fuori credo che terminerà diciamo l'uscita del galactus con la testa non lo vedremo ovviamente in game e abbiamo un'altra bellissima panoramica che ci fa capire quanto è grande il galactus lo vediamo sempre meglio perché basti pensare che è nettamente più alto delle montagne più alte sullo sfondo quindi un qualcosa davvero di incredibile ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come è già successo ieri e l'altro ieri arriva il terzo teaser ufficiale nella pagina twitter di fortnite you don't know how to drive the battle bus right molto interessante questo post perché ci dicono siete in grado di capire siete in grado conoscete come si guida un autobus vero ed è davvero molto interessante questa domanda che ci viene posta nel nel teaser ufficiale di ieri perché sembrerebbe che o meglio da quanto ci lasciano intendere ci sia una remota possibilità di prendere possesso fisicamente dell'autobus o durante l'evento o chissà quando come vedete è davvero curioso il fatto che con questa immagine si veda come gli autobus della battaglia stiano andando uscendo scappando diciamo verso una direzione ben precisa e il background in realtà noi lo avevamo già visto perché si va di nuovo a riprendere il background che era stato proposto per l'evento che ci ha portato nel capitolo 2 quindi di nuovo ragazzi un collegamento con lo zero point quindi il grande evento che ha segnato diciamo il cambiamento più profondo su fortnite quindi la nuova mappa in poche parole questo potrebbe anche lasciare intendere come molti dicono che la mappa verrà completamente cambiata o addirittura sostituita e sarebbe un colpo di scena incredibile perché una mappa sostituita alla quinta stagione è una roba che non si era ovviamente mai vista ci sono comunque vi ricordo anche degli elementi da sempre in game che ci lasciavano un po' intendere qualche cosa in questo caso stiamo vedendo la lavagna di Tony Stark quella che è presente nel picco nel piccolo capanno proprio scendendo dal dalle industrie di Stark dove appunto c'è proprio tutto il piano di Tony per la modifica del bus della battaglia e questa è la cosa più importante come vedete ragazzi sembrerebbe proprio questa immagine un tunnel spazio dimensionale che Tony stava cercando sta cercando di mettere in atto che appunto ci porti completamente in un'altra dimensione quindi una cosa davvero molto molto interessante e parlando dell'evento vi faccio vedere uno spezzone che non c'entra con l'evento quindi non vi preoccupate potete guardarlo tranquillamente ed è quello che dovrebbe capitare una volta che l'evento terminerà quindi questa è la parte finale to be continued in season 5 e da lì partirà una roba del genere quindi una schermata con scritto Fortnite season 5 starts in quindi sarà chiarissimo quando dovremmo si potrà ricominciare perché in basso a destra ci sarà un timer ed è questa ragazzi l'immagine che avete appena visto che come vedete nelle parti segnate in rosso sugli angoli va di nuovo a richiamare il background dell'evento del buco nero e dello zero point quindi tanta roba sta anche girando questa immagine che è davvero molto molto curiosa che è proprio una patente di guida non sappiamo se sia un'immagine presa dagli archivi o semplicemente un concept sono più propenso a pensare che sia un concept e comunque avrebbe totalmente senso con il tweet ufficiale che hanno pubblicato appunto qualche ora fa quelli di Epic Games quindi sarà forse necessario per la prossima season ottenere in qualche modo la licenza di guida dell'autobus della battaglia non lo so però è davvero interessante come cosa insomma ragazzi le news arrivano il tempo è quasi scaduto mamma mia io sarò ovviamente in live alle ore 20 del primo dicembre per vedere insieme a voi l'evento per oggi vi ringrazio per avere guardato questo video news ma mi raccomando raga non vi dimenticate di schiacciare il pollicione lasciate anche un commento se volete aiutatemi a mandare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch con i videogiochi vintage ciao